Questa prova. Cioè pensa e ritiene che sia uno spartiacque oggi? Sì, abbiamo fatto 5 o 10 kilowatt uniti, ma ora abbiamo avuto le difficoltà con la ingegneria basale per fare qualcosa che, you know, andare in modo self-sustaining e fare 400 kilowatt-hours per l'hour. Per capire che questo è un bric-thru, potete anche pensare che centri di milioni di dollari hanno spostato per provare una COP di 1.1 con la fusione nucleare. Oggi abbiamo fatto un'inforzionale COP che ha fatto 470 kilowatt-hours per l'hour per l'hour completamente libera, libera o più o meno. E sì, credo che questo è un bric-thru. Ovviamente questo è il primo passo, ma questo è un primo passo molto importante, perché ora non stiamo guardando una planta da alto all'interno, ma stiamo guardando una planta da alto all'interno. Ci spero, ci spero, ci spero.